Buon pomeriggio e ben ritrovati con noi a Caserta Sera Stadio, lo spazio dedicato al dopo partita. Ascoltiamo la sigla, ci ritroviamo dopo per immagini e commenti. Il remake della finale di Coppa Italia ha poco meno di due settimane piene dalla sfida dell'Ancellotta, in uno dei tre anticipi del ventunesimo turno del torneo di eccellenza. La ribalta è stata tutta sul ferrante di Piedimonte Matese, dove il Treppini ospitava la seconda della classe Vasto Girardi, con l'obiettivo di vendicare, sportivamente parlando, il risultato del match valido per la Kermess Tricolore. Il gruppo di Romagnini, forte di quattro risultati utili consecutivi, due successi e due pareggi, doveva fare i conti con gli altomolisani in striscia da due mesi, con sei successi in altrettanti confronti, otto considerando anche i due match di Coppa intercorsi in questo periodo. Con la consapevolezza però di essere stato bloccato sul pari all'andata, proprio dai piedi montesi, al triplice fischio dell'arbitro Meo della sezione di Sernia, il campo ci ha consegnato un significativo 2-1 per il Treppini Matese, motivo per più di uno spunto nelle riflessioni post-gara. Nonostante un arbitraggio scandaloso, Piedimonte ha vinto la partita che doveva vincere. Sì, mi fa piacere perché noi siamo abituati, ormai quando incontriamo queste squadre importanti, che l'arbitraggio arbitra con due pesi e due misure, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e abbiamo vinto attraverso il gioco, questa è la cosa che mi fa più contento, la dimostrazione del fatto che qualcuno nella sconfitta di Coppa diceva ben altro. Abbiamo dato un segnale a tutta la regione che siamo forse una delle mie squadre, l'hanno visto tutti. Il napoletano soprattutto è il più forte di Calcani. Per me il napoletano è il più forte della categoria in assoluto, per i numeri che dimostra anno per anno, ma proprio per la qualità del gioco. Il primo gol, nonostante un lancelotto infortunato, ha giocato infortunato, ha fatto uno stop su un lancio di lancelotti e un gol eccezionale. Non parliamo del secondo. Sono un numero, non lo dico io, oltre ai numeri, oltre ai grandi gol. Per me il napoletano è il più forte della categoria. Dimenticata la sconfitta di Coppa? No, quella non si dimentica perché poi abbiamo lavorato tanto per raggiungere quell'obiettivo. L'unico rammare che, ripeto, abbiamo giocato su un campo non come questo, perché noi siamo una squadra più dinamica, una squadra che gioca sempre al calcio, anche quando perdiamo, e noi saremo stati avvantaggiati. Purtroppo abbiamo giocato su un campo, non consono le nostre caratteristiche, però è andata così. È difficile dimenticare, ci riproveremo l'anno prossimo se ne avremo la possibilità. a fine campionato. Giocare partita per partita e fare più punti possibili, poi a fine per campionato vedremo dove arriveremo. Noi a novembre avevamo un punto della retrocessione, dopo la sconfitta di Alife abbiamo fatto in anellato tante vittorie, anche come questo, sia un Coppital in campionato, e cerchiamo di proseguire su questo standard. Allora, una sconfitta che pesa, anche perché Piedimonte, praticamente, toglie un poco di speranza al vasto girare. Sì, una sconfitta pesante questa qui. Sapevamo che era difficile, una grande squadra, un grande ambiente, e noi forse non abbiamo approcciato al meglio dall'inizio. Accettiamo il verdetto del campo, andiamo avanti. Ancora nulla è perduto, quindi ci sono ancora tante partite e dobbiamo continuare ad andare avanti, per forza, insomma. E in Coppa? In Coppa da domani mattina, da stasera, penseremo alla partita di Coppa di mercoledì, che sarà lo stesso una gara importante, una gara difficile, contro un'altra grandissima realtà del calcio. E niente, adesso riorganizziamo un po' le idee dopo questo KO e pensiamo alla Coppa. Ultima domanda, Napoletano. Napoletano è un grande giocatore, non lo scopro io, non lo scopriamo noi. Oggi purtroppo per noi ha fatto due gol, complimenti a lui, complimenti al Piedimonte, faccio in bocca al lupo a lui, a loro, alla squadra di Piedimonte, e andiamo avanti per la nostra strada. Bene, in assenza di ulteriori aggiornamenti, da Piedimonte e Matese è tutto. Noi vi aspettiamo alla prossima. Sigla! Noi vi aspettiamo alla prossima.